Ecco se volete sniperare fate pure Noi siamo pronti, non è un problema Bella Luca Centrale e casa nostra appena hanno visto una persona con la zizontra glitchata Centrale e casa nostra Non ho dimenticato il portellone aperto ragazzi Su cazzo di portellone si dimenticano sempre di chiuderlo porca parola Sì 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 Eh ma perchè abbiamo violato la loro casa Vecchio la on-site è casa mia e c'ho il charger rifle Triple arco perchè se no non so giocare vecchio Triple arco eh eh se no figurati Tu l'ho 8x Ne avevano 3? No 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 giuro sicuro O è la più veloce archista del mondo Tutte scuse Non lo stanno qua dentro È per le terrenze È ciki vecchio È ciki Eh sì sì 100.000 Non mi da kill Sono graft under 117 55 alla Valkyrie Ah che falla Scraggata è scraggata vecchio Non ti devi fare One 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 Dobbiamo bruciare questi bravo Sì vai Ho temuto per la mia incolumità in quel secondo Devo essere sincero Mi sono arrampicato su sta cosa Non mi hanno visto Sei sincero Pure io ho temuto per la tua incolumità Poi ho arrampinato È full in Ho detto vabbè Quando mi sono morto Ho detto vabbè abbiamo vinto Poi ho visto Paolo sotto E ho detto no abbiamo perso Quindi eravamo seguiti da 4 volte Non so vai Mi sono arrampicato tipo sopra il coso Lì non sapevano più dov'era Con sensazioni contrastanti Era lì che all'inizio diceva È casa mia è casa mia Poi diceva È casa nostra È casa loro Sì sulla zipline Vado a quello in open No Faccio bat Sono a sinistra E uno a destra Sneido lì dietro L'altro corre C'ha Krabber qui Tutti Comunque fightavano ancora Oh c'è il solo qui dentro Ma Ma quanto mi ha fatto Ripiegare 100.000 Oh Che caccia Sì ma Mi tengo la oro No mi tengo la viola E' flash Capitato Qua è C'è anche un patto Sono tre Sono tre Sono tre Quasi crack la Valkyrie Oh c'è uno a destra Ragazzo Sto ricaricando gli scudi Sul top È ora il patto Faccio medikit Mi curo full Devo pullare pure io C'è un patty qui da me Potremmo pushare questo Guarda questo Oh fai da me Craccata Ma come cazzo Ha fatto a fare così Questa cosa Dentro C'è dentro Il Faccio bad di nuovo Norto Uno Qui dentro Sta restando Norto Un altro Craccate Un minico Secondo me Se sei costante Spacchi quelle like Cosa? Se sei costante A streammare Spacchi quelle like Eh speriamo Bello Grazie Così mi fai arrossire Sto riparando Eh lo so Grande Il problema è che Il mess Brumbot Eh lo so Ci vuole un po' Per ricominciare Oh 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 John in Sina John Sina Ecco Eh sono Tutto Eh guarda che coglione Che sono Ci va sotto Sotto Noc Mamma mia Bello Mi è piaciuta Questa la voglio Clippare Ah coglione Guarda l'info In open 47 55 Guarda il gibo Guarda il gibo Sì C'è un altro in open qua Ma c'è uno qua C'è ancora la verità là sotto? Sì No è andata in fade Qualcuno vuole Ma Penso di sì Qua dentro Qua dentro sì Guarda guano 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 C'è C'è tutta Arriva Fatta 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 Cosa si cela Oltre il velo Ma Ha preso il push Confermo la raid Sì sì No lo si è fatto È sotto le scale Riprende TP Riprende TP Riprende TP Riprende TP Stanno craftando qui davanti Stanno craftando qua fuori anche Sì No non la vedo Non ci credo Sighierata Ci diamo Stavengalo Per favore Sul cazzo Ma 8 squadre Restiamo un attimo Minchia sì È vero È vero Aspetta Più 8 squadre Matti Me ne ero accorto Sta roba Porca dread Dove stanno tutti Eh ma C'è voluto per caso Perché Quartanelle Sono fatti molto simpatica Eh aspetta Arrivo con l'acqua È qua È qua 120 Banga Qua Dietro sta roccia Aspetta che la faccio Alla oro però Rivelati Ma la strategia Dietro per me In realtà Guarda col sir Sì arrivo Dietro mi sembra free Sì c'è un rat C'è gente dietro di noi Gente dietro di noi C'è qua sotto Ma sono più di un rat Occhio eh Allora ne vedo uno Sì un rat 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 Prendi il punto 170 Ah ma tra Dietro 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 Non mi interessa Un altro Un altro Un altro Non è un rat Non è un rat Faccio 12 bat Eh No mi push Mi push Mi fai Bravi Sì sì Ce la faccio Rivali Sì sì Bravo Sto creando una tip line Ricarico gli scudi Sto ricaricando gli scudi Mi hanno aperto in otto Cinque squadri adesso Quattro colpi battere vi servono 140 rate c'è uno qua dietro c'è uno qua dietro craccata va andata in fade guarda la rate No Sì l'avrete ancora lì Sto aspettando il fade Ha munizioni di cecco O qualche altra arma Ha un'arma? Devo sguapparla Pesanti qua 45 secondi alla chiesura dell'anello amici Un nebbiolo, un nebbiolo, un nebbiolo Ti ho cagati però eh Craccata la break Bravo Mi sa la Maggie Una roba Sopra, occhio uno sopra Mi sa che è uno sopra sai No, sono due, sono due, sono due Sì sì, no, la roba è rocked Guarda Questi sono scherzi, questi sono scherzi Vittime nuove Eh Craccac, racc, vado, vado 10 secondi, ok Eeh Non ce l'ho, non ce l'ho Non ce l'ho, 10 secondi Adesso li busciamo tra lì Dentro c'è qualcuno quindi ULTA 1 HP Questa è casa sua Niente 4k su Lori Lo andiamo a fuccare Abbiamo ancora il team sotto 1 Ok 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 Da me è il Seer Distrutto no No ho sbagliato L'avrei quasi grazie Oh le comporte Oh le comporte Oh le comporte Nice Zappa Oh via Oh via Winettina Che mettino bruttino Alla prossima Manu Quindi ce l'ha vinta la partita In cui ci ha ucciso Era a casa sua Tu guardi anime Sto iniziando a guardare Tokyo Ghoul Perché mi ha convinto la mia ragazza Però Lo guardavo molto Quando ero tipo 14 anni 15 anni Tipo Naruto Mi piace un sacco L'ultimo era un team da 2 Poi ovviamente Dragon Ball Naruto Adesso sto iniziando a guardare Dopo tantissimo tempo Tokyo Ghoul Ho finito la prima stagione di Tokyo Ghoul Bella ma la crabberata Barra longbowata Quella è stata molto carina Gli usciva fuori Tu l'hai scannato Io ho finito battere Ho detto Gli sparo Pacchettino